E siamo con Alessandro Rolando, segretario cittadino di Alessandria, della Lega. Come stiamo andando? Siete ottimisti, fiduciosi? Ma sicuramente sì, per le regionali il risultato sembra ormai quasi scontato, nel senso conferma un grande risultato del centrodestra, una stravipante vittoria di Alberto Cirio, che viene confermato dopo cinque anni di lavoro. Dobbiamo adesso attendere i risultati delle singole liste, perché poi comunque i dati devono aspettare. Quale sarebbe un bel risultato per la Lega in percentuale? Allora, nazionale o meglio, l'Europlebio, visto che siamo vicini al 10, in regione? Beh, in regione sicuramente dovremmo superare, dobbiamo superare al 10. 12-13 sarebbe buono? Sì, diciamo che adesso i dati dicono che dovremmo superarlo al 10%, quindi io mi tengo qui. Però è chiaro che almeno arrivare al 10% sicuramente, e quantomeno, secondo me sarebbe anche magari interessante magari vedere se magari prendiamo una percentuale magari anche un pochino più alta rispetto all'Europa. Beh, quello potrebbe essere un dato significativo da analizzare. E adesso ti smorzo subito l'entusiasmo. Vuoi parlare dei grigi? No, no, guarda. Alessandro Lolando, segretario della cittadinanza della Lega. Poveri grigi. Eh, poveri grigi, ma sempre forza grigi, assolutamente. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.